Solo 100 calorie per questo dolcino così goloso. Fare merenda durante la dieta non è mai stato così bello. E allora, per preparare questo dolce ci serviranno un po' di latte, uno yogurt greco, io ho preferito questo alla stracciatella, ma se volete potete prenderlo anche al cioccolato o alla frutta, un pacco di pavesini, una vaschetta in alluminio e un po' di cacao in polvere da spolverare dopo. Allora, per prima cosa prendiamo i nostri pavesini, li immergiamo nel latte e li disponiamo tutti a raggio. Come vedete ne bastano 6, poi ne prendete un ulteriore per fare la base, che sarà poi sopra il nostro dolcino. Compressate per bene il nostro dolcino con un buon cuore di yogurt greco. A questo punto andiamo a chiudere i pavesini con il restante che sono rimasti fuori e riponetelo in frigorifero per farlo riposare almeno un'ora. Trascorsa un'ora, prendete il vostro tortino dal frigorifero, lo ribaltate sul vostro piatto, spolverate con un po' di cacao, ecco a voi un dolcino super buono, super sano e super light. Grazie a tutti.